Se siete stanchi di soffrire di vene varicose e volete sapere come curare le vene varicose, rimanete fino alla fine di questo video perché vi mostrerò come fare. Salve, mi chiamo Anna e oggi condividerò la mia storia e vi darò importanti avvertenze prima di acquistare varicol. Per prima cosa bisogna fare attenzione a dove si acquista il varicol, perché a causa del suo successo sono nati molti siti fraudolenti. Non sapevo che sbarazzarsi delle vene varicose fosse così facile e grazie a questo prodotto sono riuscita a sbarazzarmi delle vene varicose a casa. Prima di arrivare qui, ho provato molti metodi che non mi hanno portato alcun risultato. Mi sono rivolta a diversi medici e la maggior parte di loro mi ha suggerito di fare un'operazione. Poi un giorno ho letto un forum straniero sulle malattie cardiovascolari e un medico consigliava un nuovo rimedio naturale, il varicol. Sul forum c'erano i commenti positivi di alcune persone che l'hanno provata e hanno dichiarato di sentirsi molto meglio. Ho cercato a lungo dove acquistare varicol, finché alla fine ho trovato il sito ufficiale del produttore e per aiutarvi ho lasciato il link di questo sito nella descrizione di questo video. Devo confessare che all'inizio non credevo in nulla, perché avevo paura di ordinare qualcosa su internet, ma le buone recensioni mi hanno convinto e ho deciso di provare. Settimana dopo è arrivato il mio ordine e ho iniziato a usarlo il giorno stesso, seguendo rigorosamente le istruzioni. Ogni giorno ho usato il varicol. E sapete cosa è successo? Il mio gonfiore iniziò a diminuire e le gambe smisero di farmi male. Una settimana dopo ho persino fatto una passeggiata in giardino. Poi le vene hanno iniziato ad assumere un colore sano e si sono ridotte a dimensioni normali. Le vene a ragno sono scomparse. Non potevo crederci. Sono riuscito a liberarmi delle vene varicose. A casa e senza spese folli per le cure ambulatoriali. Riesci a crederci. Iniziato lentamente ad aumentare il carico su di loro e presto sono tornata al lavoro, che mi mancava quasi del tutto. Ora mi sento una persona perfettamente sana e normale. Dopo essermi liberato delle vene varicose, ho capito qual è il problema per la maggior parte di noi. Pensiamo che le cose semplici non possano essere efficaci, ma crediamo in procedure complesse e pericolose come la chirurgia. Allo stesso tempo, chiunque può liberarsi delle vene varicose utilizzando un metodo semplice, sicuro e affidabile. Ho provato e ci sono riuscito. Quindi ho fatto questa recensione per aiutare chi sta cercando di sbarazzarsi delle vene varicose e non sa come fare. Ho provato il varicole e funziona davvero. Acquistando attraverso il sito ufficiale si ottiene uno sconto speciale. Spero che questa recensione vi abbia aiutato e spero anche che Varicole elimini le vostre vene varicose una volta per tutte.